Voi sapete cosa avete fatto a Ismaele? Sapete che Ismaele era un ragazzo buono, di cuore. Prima pensava agli amici e poi agli altri. Perché siete stati così cattivi, così crudeli, in tutti i sensi? Perché voi dovete chiedere l'ergastolo per voi stessi? Si rivolge direttamente ai due presunti assassini e chiede che ammettano le loro responsabilità e paghino per l'omicidio di suo figlio Ismaele, 17 anni, sgozzato, secondo gli inquirenti, da un amico per una ragazza contesa. Deborah Lulli parla per la prima volta in televisione, vuole giustizia per il suo ragazzo e lo fa alla vigilia dell'udienza preliminare che dovrà decidere se gli amici del figlio Igli Meta e Mario Mema dovranno essere processati. Io chiedo che sia giudicato per quello che ha fatto. Ripeto, mio figlio non c'è più. La sera non torna più, non mi chiama più mamma, non mi bacia più, non lo vedo più. Mio figlio non c'è più. È il minimo che loro vadano in galera. Io voglio che sia dato l'ergazzolo perché è quello che si meritano. Questo è un luogo bellissimo, un luogo che però ha una sua tragicità dove è avvenuto tutto e dove lei molto spesso viene per trovare un contatto con suo figlio. Sì, vengo qui con lui da sola. Siamo io e lui. Qual è la promessa che fa a suo figlio quando lei viene qui? Che giustizia sarà fatta perché lui possa riposare in pace e perché io lo posso piangere in pace. Grazie. Grazie.